Il grande calcio è di nuovo protagonista e come sempre con me c'è Stefano Nava. Ciao Pierre, non vedo l'ora che la partita cominci e scommetto che anche i nostri amici a casa sono curiosi di assistere a questo match. In campo oggi Frosinone e Juventus. Match di oggi con la Juve protagonista. Che ne pensi del momento bianconero Stefano? Questa squadra finora ha confermato le premesse di inizio stagione. Prova, si immola il difensore. Rabiot. Desciglio può scambiare con il compagno. Occhio alla Juve, di bala il portiere in presa sicura. Vedremo se anche oggi gli ospiti forniranno la consueta prova di solidità in difesa come hanno fatto finora. Non a caso sono una squadra meno battuta di tutto il torneo. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Rabiot. Alexandro. Emre Can. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. C'è spazio per andare. Prova la botta. Palla deviata. Sarà calcio d'angolo per la Juve. La mette in mezzo di bala. La difesa la meglio e allontana il pallone. Emre Can. Ramsey. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Emre Can. Tanti giocatori dietro la linea del pallone. Chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. Di bala. Prova a sorprendere il portiere. Attento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. Occhio a piazza. Può metterla in area. Palla che attraversa tutta l'area senza che nessuno possa intervenire. Paolo di bala. Paolo di bala. Palla vagante. Ottimo intervento senza fronzoli. Piazza. Rabiu. Emre Can. Piazza. Ecco Alessandro. Occhio al traversone. Ramsey. Gran tiro. nessun problema qui per il portiere ha spazio per andare pallone tranquillamente fra le braccia del portiere niente da fare situazione abbastanza evidente di offside ha intercettato palla con un ottimo tempismo consentendo alla difesa di respirare palla girata sulla fascia Emre Can Rabiot continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto mantengono un ottimo possesso palla Alessandro Ramsey Rabiot lo ferma ma non controlla palla che viene rilanciata in avanti Juve che prova l'avanzata attenzione il difensore un muro su questo tiro c'è stata la deviazione providenziale e sarà dunque il corner pallone che è uscito sarà rimesso dal fondo non pervenuto fin qui di bala prestazione deludente per il Picciriddu che può fare certamente meglio non ha segnato merito anche della difesa che ha saputo contenerlo bene ma non deve abbattersi la sua squadra appunta molto sulle sue capacità realizzative per portare a casa la vittoria sale la difesa scatta la trappola è fuori gioco Brighenti Rapsay Emre Can Rabiot Ibala può crossare restituisce bene il pallone prova in porta pallone che trova il palo palla ancora buona ci sarà rimesso laterale da buona posizione vantaggio solo sfiorato i pali non li hanno certo aiutati rispingendo la conclusione dell'attaccante che avrà modo di rifarsi gli ruba benissimo il pallone 120 secondi il recupero segnalato dal quarto uomo e vediamo cosa ci riserveranno buona l'idea qui intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio e si chiude qui il primo tempo calcio di inizio della ripresa con la Juventus in possesso perfetto oggi le passaggi ottimi i suoi passaggi oggi De Sciglio Emre Can cross che viene intercettato Dybala può metterla in mezzo il tocco dentro l'arbitro concede rimessa laterale per la Juve piazza Alessandro Rabiot grande recupero occasione per passare in vantaggio palla in giro pulisce da tre quarti evitando guai peggiori rimessa laterale in zona l'attacco Ramsey Rabiot De Sciglio posizione buona per il cross allontanano il pericolo EA Sports vi offre una loro partita casalinga valida ovviamente per il campionato di A Alessandro Ramsey la traiettoria verso il centro la difesa la meglio e allontana il pallone Stefano un commento sul nuovo impegno della Juventus affronterà il Bologna nel prossimo incontro di A sono i miei favoriti possono puntare tranquillamente la vittoria l'azione sfuma qui palla nuovamente agli avversari pallone che finisce in fallo laterale entrambi gli allenatori inseriscono energie nuove in campo tempismo perfetto evidentemente aspettavano che uno dei due facesse la prima mossa arretrano il raggio d'azione invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare cercano di aprire la difesa avversaria corner per la Juve arrivano i saltatori la mette in mezzo di Bala ci mette i pugni e allontana prova la conclusione gol solo sfiorato qui da apprezzare il gesto tecnico conclusione potente ma leggermente imprecisa mamma mia stava per segnare una rete fantastica palla che è uscita non di molto punta l'area si gioca vantaggio arbitro che ferma il gioco per il fallo di Bonucci vediamo se c'è il cartellino c'è il cartellino per Bonucci giallo giallo per lui non penso che andrà il tiro da lì meglio metterlo dentro per cercare una deviazione buono l'anticipo del difensore occhio al cross brutto cross nessun problema per la difesa ecco il tiro colpito il pallone dal difensore Martoni in contropiede Emre Can c'è il fisco dell'arbitro punizione per la Juve prova a sorprendere il portiere c'era tutta la potenza in questo tiro peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete conclusione che non è uscita di molto sopra la traversa Emre Can e c'è un cambio e c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite c'è bisogno di energia di forze fresche credo sia il momento giusto questo Alessandro buono il dai vai occhio qui può far prova la botta hanno sprecato una buona opportunità si rimane dunque in parità Gori Dionisi interrompe bene l'azione intercettando il lancio squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa credo che sia arrivato il momento giusto c'è bisogno di forze fresche Pjanic Alessandro il tocco dentro Pjanic gran tiro tira il respinto c'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque il corner occhio al tiro della bandierina angolo calciato davvero male palla che non raggiunge i saltatori palla che finisce in faro laterale Pjanic arretra per ricevere palla ecco Alessandro Dionisi Ciano andiamo da Matteo Barzaghi quanto c'è da giocare Matteo siamo a rush finale mancano solo cinque minuti al novantesimo grazie Matteo puntuale come sempre ha colpita davvero male palla in faro laterale Emre Can i padroni di casa si preparano al cambio vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione Juve che vuole vincere la partita e continua ad attaccare in questo finale Emre Can di ritorno su Dybala Ramsey continua l'affittare dei ripassaggi e dunque parità alla